Stefano De Martino dimentica Gilda, incontri segreti con Giorgia, l'ex fidanzata di Gianluca Vacchi Stefano De Martino e Giorgia Gabriele stanno insieme? Incontri riavvicinati tra i due Nuova fidanzata per Stefano De Martino? Ancora una volta la situazione sentimentale del ballerino di Amici è poco chiara Stando a quello che sussurrano i ben informati, l'ex marito di Belen Rodriguez avrebbe lasciato da qualche settimana Gilda Ambrosio, la stilista e web influencer conosciuta la scorsa estate a Ibiza E negli ultimi giorni, secondo quanto riporta il settimanale Chi nell'ultimo numero in edicola, avrebbe cominciato a frequentare Giorgia Gabriele Sì, proprio la modella ed ex fidanzata di Gianluca Vacchi Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si parla di incontri molto ravvicinati tra i due, sta forse nascendo un amore? Stefano e Giorgia Gabriele, si torna a parlare dei due Non è la prima volta che si parla di una presunta liason tra Stefano e Giorgia Già un mese fa spuntarono sul web delle foto di De Martino in compagnia della ragazza In realtà non era altro che un incontro casuale, il prossimo inviato dell'Isola dei Famosi ha incrociato per le vie di Milano la Gabriele con i suoi amici e per educazione l'ha salutata Ma, stando a quanto racconta la rivista edita da Mondadori, ci sarebbe dell'altro tra i due A quanto pare un flirt vissuto lontano dalle luci della ribalta Com'è del resto la nuova vita di Stefano? Da quando il campano ha divorziato da Belen non ha più parlato pubblicamente delle sue questioni sentimentali Se non per smentire i presunti gossip su ipotetiche fidanzate, a breve negherà pure il pettegolezzo su Giorgia I dettagli degli incontri a casa di Giorgia Gabriele Stefano è stato visto entrare coperto scrupolosamente con cappuccio in testa, barba lunga e occhiali da sole nella casa milanese dove abita Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi Gli incontri ravvicinati tra i due sarebbero numerosi e si legge sul giornale di Cronaca Rosa Sarà vero? Per il momento i diretti interessati tacciono, in particolare dei Martino appare sul social più che mai concentrato sul lavoro e sulla nuova edizione di Amici Grazie per la visione